Sostanzialmente i punti che noi abbiamo voluto sottolineare sono quelli di un intervento assolutamente più massiccio della Polizia Municipale per controllare queste attività e soprattutto le attività devono avere dei limiti sia ad orario ma anche soprattutto di spazi. Gli spazi che sono quelli esterni che devono essere limitati pari al 100% delle aree dei locali che svolgono queste attività di somministrazione non solo di bevande ma anche di ristorazione. Siamo arrivati a questa determinazione perché indubbiamente pungolati anche dai vari interventi in commissione dei residenti e degli stessi commercianti devo dire che vogliono anche loro una regolamentazione sicuramente più serrata e più stringente perché oggi come oggi la situazione all'interno non solo comunque del quadrilatero della Movida quella più nota come via Cesare e Battisti e del mercato coperto ma anche delle altre che vengono interessate deve essere regolamentata. La sistemazione della zona centrale di Pescara e quindi la rivalutazione e la riqualificazione di quella zona non era non doveva avere questo scopo e non aveva questo scopo perché è stata fatta ovviamente ideata e portata avanti dal centro-destra oggi come oggi è sotto gli occhi di tutti che è sfuggita completamente di mano. Noi abbiamo proposto anche oltre a queste misure che andranno presto in consiglio per la discussione anche l'applicazione dei DASPO urgenti ciò in relazione al decreto Minniti che è uscito recentemente e proprio per limitare e soprattutto per porre un freno a tutte quelle attività illecite di accattonaggio, abusivismo con uso non solo di sostanze stupefacenti e violenze sui minori e con l'utilizzo di minori per quanto riguarda questo tipo di attività. Quindi vogliamo con la proposta di delibera comunale indirizzare il sindaco affinché adotti con urgenza dei provvedimenti che vengono concretizzati con l'allontanamento della città ed altro.